Molti cittadini e le associazioni che hanno aderito alla sit-in Vallecena contro la cosiddetta quarta vasca del Civeta e la nuova discarica di Furci, due impianti la cui realizzazione preoccupa non poco gli abitanti della zona, qualità dell'area ridotta ai minimi termini, territorio a rischio idrogeologico e presenza di un torrente, il Cena, che sorge nei pressi della discarica e la cui qualità delle acque è in stato pessimo. Queste sono alcune delle criticità riscontrate dai manifestanti. Il sindaco di Furci, Angelo Marchione, è in prima linea per ribadire il no della sua comunità e delle altre coinvolte. Sarà un nuovo documento che verrà sottoscritto dagli amministratori del territorio per ribadire il no alla discarica di Furci. Un progetto ormai del 2005 che in 13 anni non è riuscito ad ottenere le autorizzazioni necessarie. Noi crediamo che siano ancora molte le criticità anche dal punto di vista tecnico e quindi chiediamo una sospensione immediata di questo procedimento da parte della nuova giunta regionale, del nuovo consiglio regionale affinché possano prendere atto della problematica e possano prendere atto anche della nuova problematica legata alla cosiddetta Quarta Vasca del Civeta. Il nostro territorio ha già dato in termini di conferimenti e di impatto ambientale. Noi vogliamo smaltire i rifiuti solidi urbani del nostro territorio e non possiamo più accettare progetti che non hanno alcuna limitazione di confini geografici. Per Augusto De Santis il modello da seguire è un altro. In Abruzzo abbiamo già dei comuni che stanno oltre l'80% di raccolta differenziata, dobbiamo produrre sempre meno rifiuti a monte e perché bisogna fare queste mega discariche veramente incomprensibili se non per il profitto di chi lo propone. Alla manifestazione ha preso parte anche Lega Ambiente. Sicuramente il futuro di questo territorio non passa attraverso le discariche, dobbiamo puntare con forza al tema dell'economia circolare anche perché qui al Civeta c'è un progetto che è quello di gestore anaerobico che chiude la filiera del compost che per noi è un elemento di eccellenza e permette anche di dare un elemento di sostenibilità economica al mantenimento di questa struttura perché se vengono inseguiti i rifiuti che vengono anche da fuori regione è legato anche al tema del mantenimento di costi dell'infrastruttura.